signori buongiorno eccoci qui un nuovo tg sempre da torino tolgo un attimo la mascherina così mi sentite meglio allora oggi 25 gennaio 2022 san paolo conversione di san paolo perché molti mi chiedono il santo lo vuoi dire il santo ecco l'abbiamo detto allora dove mi trovo stamattina ragazzi è un tg veramente speciale perché sono venuto in questa zona che adesso vi dirò per incontrare un re oggi incontriamo un re un re un sadagatese chiaramente puro sangue che vive qui da molti anni e lo chiamiamo subito qui perché voi siete curiosi allora vieni carissimo amico eccolo qui ferdinando reddavide reddario ma questo possiamo parlare il dialetto ogni tanto e io non so parlarlo bene no vabbè ma questo cognome e sandate is no mio nonno arriva da cerignola mia nonna era perrone immacolata per questo volevo sapere la nonna era perrone perrone si come mia nonna gurnatella la panettere che era perrone si o ferdinando guardi io ti devo ringraziare due volte primo perché mi hai contattato di social ma freccia vorrei ci dobbiamo dire ti devo offrire un caffè secondo perché finalmente ci siamo visti conosciuti conosciuti bene sì perché tu mi segui allora tanti saluti a tutti i sandagatesi allora ferdinando bravissima persona educatissima mi ha portato qui in questa zona pellerina parco della pellerina parco carrara della pellerina si chiama allora vediamo un po qui dietro c'è un circolo il mio circolo del tennis questo è il circolo del tennis dove tu vieni qui da tanto tempo se sei iscritto sei socio l'hai visto anche lui mi ha fatto vedere stato siamo stati fino adesso a girare allora tutta la pellerina cinque chilometri tutto intorno il perimetro sono cinque chilometri però la pellerina sono 837 mila metri quadri infatti abbiamo visto notevole notevole abbiamo preso il caffè qui buonissimo me l'ha offerto ferdinando veramente lui abita in zona ma non diciamo non è necessario dire la via non è importante cioè abita qui in zona bellissima zona complimenti o la classica domanda da quanti anni sei a torino 62 60 dal 62 62 anni 62 io ho 66 anni 62 anni che sei qua ma tantissimo però in questa zona sono 14 anni che io abito nel mio palazzo sono 14 14 anni in questa zona vicino sempre evitato in borgo san paolo e poi a collegno e poi 14 15 anni fa comprato di sabito qui in questa zona allora sposato va bene cane abbiamo detto tutto una figlia dottoressa in giurisprudenza e io non sapevo se potevo chiederselo il mio orgoglio è un nipotino che si chiama giulio allora saluti alla tua figlia auguri per il nipotino un bacetto al nipotino quanti anni ha nipotino a 10 mesi piccolissimi non deve fare 11 mesi l'undici febbraio fa 11 mesi e a marzo fa un anno allora perché qua c'è gente che poi che diceva la mascherina allora noi siamo vaccinati green pass green pass siamo stati pure al bar lì tampone pure fatto quindi stiamo tranquilli siamo pure all'aria aperta tra l'altro è perché qua ci sta pure io per fare sport devo essere a posto di tutto altrimenti non mi fanno neanche entrare hai visto prima ci ha chiesto il green pass allora ferdinario mi ha fatto vedere il circo mi ha fatto vedere anche il tennis doveva lui guarda ragazzi e poi la cosa che mi è piaciuto da parte torino ma questi alberi numerati censiti dal comune è vero sì tutti censiti e numerati e di ogni albero c'è la storia di questo albero perché se sono stati malati se non sono malati di fatti prima abbiamo visto un albero che è malato e c'era proprio quasi una preghiera sì una preghiera c'erano delle delle foglie diciamo finte appese degli stracci colorati delle poesie delle detiche perché l'albero si è ammalato si è ammalato e forse dovrà essere abbattuto se non si riesce a curare e la gente chiede aiuto al comune e al sindaco di facciamo vedere un po' per aiutare questi alberi ma comunque gli alberi sono tutti ecco vi faccio vedere un po di là siamo entrati gli alberi qui siamo una parte di un'entrata diciamo sì 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 ho visto pure qualche scoiattolo tanti tanti ce n'è e qui non si toccano le anatre due laghetti due laghetti abbiamo due laghetti anche due laghi e anche il fiume d'ora che alimenta i due laghetti siamo passati sul ponte ho visto immenso immenso proprio il fiume grande grande veramente lui mi ha fatto da cicerone conosce questa questo parco della pelerina a memoria ragazzi io mi fosse perso perché abituato a sandrocca la villetta cioè niente proprio in confronto guarda io sono veramente contento oggi di che ci siamo visti gli farò conoscere torino le bellezze perché torino è una delle città più belle d'italia guarda mi sto accorgendo che è proprio così allora c'è maria marchitelli maria botticelli che soprattutto maria botticelli che mi dice mi continua a insistere va in giro per torino ci sono molte cose belle riprende le fa il tg ma io sono sandatese cioè io faccio le cose per san d'agato sono venuto qui a incontrare un san d'agatese mi parla di torino delle cose belle però ho il piacere di stare con un san d'agatese questo è e io vorrei fare un saluto al mio amico pietro bove che veramente pietro sono felice che tu sei il sindaco il sindaco giusto per il nostro paese e poi sarà tra tutti i miei amici linda di nuccio e tutti gli altri dino viola linda colotti e linda proprio mi ha ricordato vai da ferdinando mi raccomando e anche di bici a gianfranco e gerardo perché sono amici miei sono attimi giudici guarda io sono contento di questo credito non ci siamo messi d'accordo perché io quest'anno l'anno scorso ha affiancato l'amministrazione e pietro bove perché mi sono nonostante piedi e pietro siamo andati a scuola insieme abbiamo fatto l'asilo l'elementare e le medie quindi ci conosciamo da 60 anni praticamente e stand a fianco a lui con la sua equip diciamo così abbiamo poi vinto le elezioni e devo dire ha visto che tu hai tirato fuori l'argomento che lui è così pietro si preoccupa del paese di tutto e lavora sempre dentro dentro il comune per il paese ha sempre lavorato poi per il comune lui è un vero sant'agatese d'occhio devo dire che io ho appurato proprio di persone perché sono state tanti anni a venezia a roma adesso tornando qui ho visto tante cose la gente se la venda sempre è normale anche qui a torino si la meno nonostante bella la città il sindaco di comune di torino mi raccomando se dovesse arrivare a te questo video non gli arriva gli arriva russo mi segue ti segue quindi dando complimenti a chi gestisce tutto quindi amministrazione comunale di torino per tutto quello che fa però qualcosa in più la dovrebbe fare sì 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 noi ci lamentiamo perché il parco è curato ma non è curato come vorremmo noi vorremmo più spazio anche per gli animali gli ho fatto vedere il nostro recinto cani ecco recinto cani bravo diecimila metri quadrati solo per i nostri amici animali dove tu puoi portare il cane lì farlo giocare divertire siamo la prima città in europa da avere un parco così la prima città in europa sì e infatti ho visto la gente viene porta il cane chiaramente cani nomi stricati ecco non moldaci e quindi stanno bene ma il parco in mente grandissimo si può fare passeggiare in bicicletta corre vietato l'ingresso ai motori nelle macchine quello sì quello sì vabbè allora io direi perché se noi avessimo se noi giriamo tutto il parco con la telecamera e ci vanno un'ora due ore di ripresa non è possibile anche di più anche di più anche di più o è un'altra cosa diciamo i bagni i servizi pubblici no ma qui abbiamo già fatto un esposto al sindaco da tre anni ecco sia l'appennino che al nuovo sindaco perché il parco servono dei bagni per le donne e per gli uomini perché una città come torino deve avere più bagni nel parco e abbiamo anche il defibrillatore che adesso fa la regina magnesio al bar dove perché se un atleta sta male non si sente bene col defibrillatore si può salvare la vita e ce l'abbiamo anche al nostro circolo del tennis siamo tutti vecchi per cui bisogna averlo guarda vogliamo vogliamo chiudere qui che dici perché poi dovrebbe diventa troppo lungo tanta gente diceva io andavo a scappare mi piace vedere il tg però non farlo più lungo di dieci minuti un quarto d'ora di qua di là vabbè allora salutiamo a tutti gli andati tutti gli amici che vivono a torino che sono emigrati io rispetto molto chi è emigrato lui lavora ancora elettro forniture cose giusto detto bene mi ero un po documentato perché se non ho impreparato qua va bene allora grazie prego grazie a te grazie buona giornata a tutti ciao a tutti e lo diremo pure al sindaco nostro di sant'agata di questa intervista buon tg buona giornata a tutti amici ciao grazie ferdinando grazie